Vanity Fair, il settimanale dedicato a moda e costume, tira le somme del mondo del wedding. Ad un anno dall'inizio della pandemia, quanto ha perso il mondo dei ricevimenti di nozze, quali sono gli scenari futuri e quali ad oggi sono le location più richieste? Per rispondere a questa domanda, il settimanale si è avvalso dell'esperienza di Cira Lombardo, una delle più note wedding planner d'Italia, che non ha dubbi le migliori 20 location per matrimoni in Italia, spaziano dai grandi gruppi alberghieri situati sul lago di Como alla Toscana fino ad arrivare in costiera malfitana e nel Cilento. In merito al Cilento è a Pestum, che si concentra l'attenzione della wedding planner, per lei il Savoy Beach Hotel è tra le migliori location per matrimoni di tutta Italia e la struttura creata negli anni 2000 dalla famiglia Pagano con l'obiettivo di ospitare eleganti cerimonie e negli anni è diventata sempre più rilevante a livello nazionale ed internazionale. Sempre più spesso infatti giovani coppie provenienti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'India, passando per la Nigeria e l'Inghilterra, scelgono il Savoy per festeggiare il loro sogno d'amore.